Per il quinto, così... Come? Vendete come tutto di riprendimento a quest'uomo. Non so fare solo uno. È un confusionario. Si dice cagate. Si dice cagate che va. Gli dice cagate che va. Gli dice la luce una cosa e l'altra. Gli dice qua e si permette anche di... Non così... Qui si dice anche tu o Xiadatte molto vera... Questa è una cosa che Kevin? Clementi che... E quindi le tengo arrivo. Non tbriddà, non c foncazarmi, però... A Sarebbe ancora unelse con piove? Sì Outa. Questa è un tec... Questa è un tec... Ehi flash, mannaggia, flash. Grazie a tutti.